Ah! Ore 17.43. L'animale in ottima forma. Ciao, Sammy! Ehi, Ginger, che fate di bello? Sì, hai mai fatto caso al comportamento del nostro criceto? Così preciso! Dici davvero, Sammy? A dire il vero no, non l'ho notato. Sto osservando Ginger da quasi tre ore e devo dire che è proprio un tipo sveglio. Chissà. Forse i criceti in realtà sono alieni piovuti qui da un pianeta lontano. Ma, Sammy, mi sto immaginando questo minuscolo disco volante pilotato da un criceto. Non ridere, Sue. Guarda che può essere come dico io. Facciamo la prova, allora. Ginger, tu aspettaci qui. E noi, signor scienziato, andiamo al lavoro. Ciao, ragazzi! Oggi saremo al servizio della fervida immaginazione di Sam. Costruiremo un disco volante a misura di criceto. Sì, lo so, lo so. Non mi prendi sul serio, vero, Sue? La città aliena dei criceti forse esiste davvero. In qualche galassia lontana lontana. Ma no, Sammy, sai che sono sempre pronta a darti retta. Anche nelle cose più pazzesche. Che dici, usiamo la penna 3D? Sì, che bello, aspetta, l'ho vista da qualche parte in cucina. Intanto voi iscrivetevi al canale. Abbiamo fatto un sacco di cose belle con la penna 3D. Vai a prenderla, Sue! Ragazzi, noi useremo metà di questo disco di plastica per fare la cabina di pilotaggio. Potete trovare tutto in un qualsiasi negozio fai da te. La metteremo al centro del nostro disco volante così e ricalchiamo il contorno per regolarci meglio. Il nostro alieno ovviamente avrà bisogno di un portale d'ingresso, giusto? Disegniamolo qui allora così. Sue, ho guardato tutte le puntate di X-Files e Men in Black. Il disco volante deve essere grigio, ok? E grigio sia, Sammy! Anzi, argentato! Insomma, sei tu l'esperto qui! Tusci! Tutti! 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 Grazie a tutti. Ragazzi, dobbiamo assicurarci che tutto lo spazio sia ben ricoperto dalla plastica, ok? Ah sì, dopo tutto dovrà volare lassù nello spazio! Mi raccomando ragazzi, fate attenzione! La penna all'interno è bollente, ok? Ah, per questo lavoro vi servirà tanta pazienza, ve lo dico! Ah sì, o non somiglia per niente a un disco volante, o almeno a uno che voli davvero, non vedi? È tutto vuoto! Ho detto pazienza, Sammy! Una cosa per volta! Va meglio adesso? Questa qui sarà la parte inferiore del disco volante, l'ingresso è un pochino più piccolo, ma è molto robusto! Ah sì, adesso va bene! Completiamo la cabina di pilotaggio! Servirà qualche ciotolino delle giuste dimensioni come questo! Poi ci servirà un po' di plastilina! Il colore non è importante, ma è importante fare... questo qui! Sue, quando avremo finito, come potremo chiamarci? Ufologi, forse? Ti stai confondendo, Sammy! Gli ufologi non sono quelli che costruiscono i dischi o gli ufo! Ah davvero? E allora che cos'è che fanno? Sentiamo! Sono persone che studiano i fenomeni misteriosi, come gli ufo o i cerchi nel grano. E intervistano le persone che dicono di essere state rapite dagli alieni. Attenti con le forbici qui! Insomma, gli ufologi sono scienziati, fanno ricerche, raccolgono dati. Un giorno, chissà, riusciremo davvero a comunicare con civiltà di galassie lontane? Sara, ma allora chi è che costruisce gli ufo? Beh, se lo chiedi a me! Gli alieni! Anche se una volta ho letto di scienziati che avevano provato a fare un aereo simile a un ufo... Ragazzi, non dimentichiamoci di fare bene il portello d'ingresso. Così! Ok, adesso rimuoviamo il nostro piccolo contenitore. Così. E aggiungiamo un altro strato di plastica. Forza, forza! Ma, Sue, dove sono quegli aerei simili agli ufo adesso? Beh, nessuno li usa più. Quindi mi sa che l'esperimento è fallito. Almeno nessuno li usa nell'aviazione civile o nei viaggi spaziali. Pensa come sarebbe girare il mondo su un disco volante invece che su un aereo. Ci sarebbero assistenti di volo alieni che ci servirebbero il pranzo! Con otto braccia! Che bella scenetta! Ragazzi, mettete like se piacerebbe anche a voi. Adesso colleghiamo la cabina di pilotaggio alla parte inferiore del disco. Fiu, ti ricordi? Una volta un alienina da una lontana galassia ci ha fatto visita. Era proprio divertente e le avevo anche dato da mangiare. E a proposito, ho famissima. Tanto per cambiare hai fame. Ragazzi, il video di cui Sam parlava lo trovate sul nostro canale, ok? Non perdetevi i nostri video. Mi raccomando, iscrivetevi, ok? Perfetto! Adesso sistemiamo la parte trasparente così. Possiamo usare sia la colla che continuare con la penna 3D. Insomma, come preferite. Susie, secondo me hai saltato qualche punto. Ma certo che no! Quei fori sono lì per uno scopo ben preciso, Sammy. Guarda! Non sarebbe un vero disco volante senza luci che lampeggiano, giusto? Così ho pensato di aggiungerle anche qui, usando questi led. Ragazzi, non trovate che sia un'idea geniale? Forza con quei mi piace, su! E adesso ti mostro un trucchetto. Sei pronto? Wush! Bello! Ma funziona? Certo che sì, Sammy! Vedi? Ragazzi, fatevi aiutare in questo passaggio, ok? E adesso dobbiamo solo incollare la parte superiore a quella inferiore. Ci serviranno altra plastica e la nostra penna 3D. Ehi, Susie, stavo pensando. Una volta costruito un UFO potremmo entrare in qualche agenzia segreta. Una di quelle che studiano gli alieni, i dischi volanti e cose così. E dimmi, hai per caso un'agenzia particolare in mente? Certo! Una che ci farà indossare dei bei confettini scuri in tinta. Wow, Sammy, stai parlando dei Men in Black? Ah, saremmo una bella squadra, io e te. Agenti speciali, Sammy, sì! Guarda che i Men in Black si chiamano soltanto con l'iniziale. Giusto, allora saremmo S ed S. Però così ci sarà un po' di confusione, Sammy. Immagina che qualcuno stia cercando l'agente S, cioè io, ma poi finiscono a te. Come risolviamo il problema? E dov'è il problema? Sono sempre tutti felici di incontrarmi, anche per sbaglio. Oh, Sammy. Sì, ma secondo te i Men in Black esistono davvero? Beh, sembra che sia soltanto una leggenda, ma c'è gente che dice di avere davvero incontrato questi agenti super segreti. Per esempio, uno si chiama Gray Barker. È uno scrittore famoso per i suoi libri sui UFO e il paranormale. Pensa che i film sui Men in Black sono basati proprio su un suo libro. E il titolo era Sapevano troppo sui dischi volanti. Interessante. Vado a leggerlo. Bravo. Prima però aiutami a finire, ok? Mi serve la tua fantasia, Sammy. Oh, va bene. Pensavo avessimo finito ormai. Non proprio. Guarda che cosa abbiamo qui. Ehm, un barattolo? Vuoi che lo riempia di biscotti? Ma no! Su questo barattolo poggeremo il nostro disco, in modo che sembri che stia volando in una certa angolazione. Vedi? Capisci? Non dire altro, Sue. Sammy, il maestro, entra in azione. Ancora non ho ben capito a che serve questo barattolo. Ragazzi, lo scopriremo insieme, va bene? Ecco, ho aggiunto una striscia verde proprio qui. E il nostro disco volante adesso è proprio bellissimo da vedere. Non trovi anche tu? Sì, sì, bellissimo! Sue, vuoi spiegarmi perché mi hai dato questo coso da sistemare? Ma certo. Hai presente quel misterioso raggio luminoso che esce sempre da sotto gli UFO? Insomma, sai, quando gli alieni rapiscono qualcuno e usano il raggio per portarli su, sulla navicella. Oh, tipo quell'immagine dove un UFO sta portando su una mucca. Esatto. E anzi, la mucca è un'idea spaziale, Sammy. Te la procuro subito. Nel frattempo sistemo il disco volante sul barattolo così. Ragazzi, attenti alla colla. È molto, molto calda. Ecco qui. Adesso mettiamo un altro po' di plastica per rifinire bene il tutto. Un'altra piccola decorazione così. E' a posto. Ma che fine ha fatto? Qui non c'è. Nemmeno qui. Oh, e dai, su! Qualcuno, per caso, ha visto una mucca? Ginger, forse l'hai vista tu? Ginger! Allora l'avevi rapita tu, questa povera mucca? Anche senza il disco volante? Questi criceti intergalattici devono avere poteri spaventosi. Corro a dirlo a Sue. Susie! Devo dirti una cosa! Wow, ma che cos'è? Giusto un po' di erbetta sintetica. Perché? Non ci crederai mai. Ho trovato la mucca vicino alla gabbia di Ginger. L'aveva rapita lui, come un alieno! Mmm, oppure qualcuno di mia conoscenza se l'è dimenticata lì? Magari qualcuno che ci stava giocando ieri? Oh, ah, già, come non detto. Ragazzi, ancora una volta dovremmo usare la colla a caldo. Quindi vi ripeto, fate tanta attenzione. Adesso posiamo tutto quanto sopra questo piccolo prato in questo modo, così. Davvero bellissimo, Sue! Ma manca ancora qualcosina, eh? Ecco. Bravissimo, Sammy! Anche io ho un dettaglio da aggiungere. Guardate, questa scaletta l'abbiamo sempre fatta con la penna 3D. E adesso il nostro pilota può finalmente salire a bordo. Finalmente, Sue! Stiamo per dimostrare la mia teoria sui cricetti alieni! Woohoo! Giorno 4 di osservazione. Il disco volante è atterrato. Vediamo cosa farà il nostro soggetto. Ragazzi, ecco a voi il nostro pilota pronto ad esplorare le più remote galassie! Wow, Sammy! È andato dritto verso il disco! Forza, piccolo Ginger, Sue! Sali a bordo, Sue! Non avere paura! Guarda, sta usando le scale che gli abbiamo costruito. Sarà il primo cricetto su Marte! Sue, guarda, Ginger è pronto a decollare! Woohoo! Yeeey! Ah, Sue, abbiamo fatto un lavoro bellissimo! E se fossi in voi ragazzi, starei già condividendo il video con gli amici e cliccando su iscriviti! Ben detto, Sammy! Devo ammetterlo, non pensavo che questo piccolo UFO sarebbe venuto così carino! E quanto piace anche a Ginger, vero? Secondo me ci sta dando anche lui un mi piace! Anche voi ragazzi, metteteci tanti mi piace! Troverete sempre tante idee interessanti qui sul nostro canale! A prestissimo! Ciao, ciao! Non temere non farà male! Vedrai la luce e dimenticherai tutto quello che hai visto oggi! Sammy! Che c'è? Così riguarderanno questo video ancora e ancora! Ciao! Grazie! Grazie!